Allora riprendiamo questa seconda ora, provando a mettere in pratica in un caso molto semplice, quello che abbiamo visto, io ho aperto PyCharm e ho cominciato a aprire un progetto vuoto e ho scritto una piccola consegna che ci diamo, scrivere un programma Python che permette di gestire un libretto universitario, una cosa che conosciamo bene, il programma dovrà definire una classe vuoto che rappresenta un singolo esame superato e una classe libretto che contiene l'elenco dei voti di uno studente, uno, quindi non dobbiamo gestire tutti i studenti dell'università, un programmino per gestirti il tuo libretto. Quindi partiamo dalla classe vuoto, la classe vuoto deve rappresentare appunto un singolo vuoto, c'è scritto di un esame superato, quindi non ci interessa il carico didattico, gli esami che devi dare, quelli che non hai passato, quelli a cui si è prenotato, eccetera, ma solo quelli che hai già superato. Allora come lo definiamo? Definiamo la classe, chiamiamola pure vuoto, due punti. Adesso poi qui PyCharm con l'autocompletamento mi suggerisce già di definire un costruttore, va bene. Poi in realtà sta suggerendo delle stupidaggini che non sono ancora riuscito a capire come fare a dirgli di tenersene per sé le stupidaggini. Adesso è tutta questa intelligenza artificiale che infilano dappertutto, alla fine se non fai attenzione ti rompe le scatole e ti dà suggerimenti stupidi. Allora, io penso al costruttore per pensare alle proprietà che deve avere questo oggetto. Allora, di che cosa è cartizzato il voto? Un esame superato. Allora, innanzitutto sarà l'esame che ho superato. Come lo vogliamo chiamare? Esame? Ecco, e quando creo un nuovo voto, dovrò specificare di quale esame ho superato. Creo un voto di analisi 1. Quindi, con il primo parametro ci sarà l'esame. Poi, vai via perché è un elemento sbagliato. Poi, il voto che ho preso. Ok? Quindi, il secondo parametro, possiamo vederlo come proprietà, possiamo vederlo come parametro di costruttore uguale, al fine devono allinearsi. Il voto che ho preso. Come lo chiamiamo? Lo chiamiamo voto? Possiamo chiamarlo voto perché, diciamo così, colloquialmente è il voto che hai preso. Però noi abbiamo in realtà una classe voto che rappresenta non il voto numerico, ma l'oggetto che rappresenta l'esame superato. Quindi, chiamare voto un attributo di una classe che si chiama voto invita un po' di confusione. Quindi, io le chiamerei in modo diverso. Quindi, o la classe anziché voto lo chiamo esame superato, o il parametro anziché voto lo chiamo punti, punteggio. Allora, visto che la classe si chiama voto già nel testo, diciamo così, non ho la libertà di cambiarla, quindi anziché voto lo chiamo punteggio. Poi, l'altra cosa che ci interessa sapere è quando, la data. Alla fine, nel libretto, queste tre cose sono scritte. Ah no, i crediti. CFU. Che esame, quanti crediti aveva, che voto hai preso e quando l'hai passato. Se prendete il libretto, quello c'è scritto. E quindi, questi quattro argomenti del costruttore sono tutti e quattro necessari per poter costruire un oggetto e quindi tutti e quattro dovranno essere salvati come attributi di questa classe. Doviamo a definirne uno. Voto uno uguale voto diciamo che l'analisi matematica uno scusate se vi scavo nelle memorie dolorose però abbiamo preso 28 che era da 10 crediti abbiamo preso 28 e quando l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto due anni fa la data però fatemela scrivere come string adesso ci ragioniamo quindi due anni fa era 2022 al 10 di febbraio per dire ok? Allora qui abbiamo definito una classe definito le proprietà di questa attributi di questa classe e creato un oggetto di quel tipo e proviamo a fare print di voto uno vediamo cosa succede quando eseguiamo questo programma faccio run e lui facendo run mi stampa questa cosa qui vabbè me l'aspettavo nel senso che questa print questo voto uno è un oggetto questa print mi stampa il riferimento a quell'oggetto sarebbe la stessa cosa che quando stampiamo in java se stampi un oggetto a cui non è definito il metodo to string ti stampa l'indirizzo di memoria dell'oggetto stesso no? quindi però prima di capire come fare a far stampare qualcosa di significativo fatemi mettere un breakpoint qua e vediamo che cosa succede proviamo a eseguire lo stesso programma in modalità debug così vediamo passo a passo ok? quindi anziché run debug ecco qua il programma è partito e l'ho messo il breakpoint qua sulla sulla prima riga e fermo qua adesso se voglio andare avanti eseguire questa istruzione faccio andare avanti e dove sono andato aspetta perché non va avanti la riga aspetta scelta ok dovrebbe andare avanti ok allora definisce la classe entro dentro definisce questo metodo ma non è entrato a eseguire queste istruzioni perché io solo ho messo da parte il metodo all'interno della classe quindi io adesso sono qui eseguo questa istruzione ok quindi ho definito la classe entro dentro questa chiamata a funzione quindi ho chiamata a voto che è il nome della classe con i suoi parametri allora quando io entro dentro in debug ciò che vedo è che viene chiamato il metodo init della classe voto quindi creare un nuovo oggetto di una classe significa equivalente a chiamare il metodo init di quella classe se c'è ovviamente questo metodo dove abbiamo esame cfu punteggio data che sono i parametri che questa funzione init ha ricevuto che sono quelli che abbiamo passato dalla riga 16 poi c'è il parametro self che fa riferimento a un oggetto che è nuovo a questo indirizzo di memoria questo oggetto self al momento non ha nessun attributo dentro è vuoto ok dopodiché esame la nostra string analisi matematico 1 se io eseguo questa istruzione vado avanti di un passo e vedete che l'oggetto self adesso ha acquisito una proprietà che si chiama esame che punta questa stringa quindi man mano che vado avanti io costruisco una dopo l'altra le proprietà di questo oggetto quindi questa è un'altra differenza mentre in java le proprietà nascono istantaneamente insieme all'oggetto quale creo una o una dentro il costruttore che poi le creo una o una dentro il costruttore è una scelta mia perché in teoria potrei creare delle proprietà anche non dentro il costruttore ma dentro altri metodi basta che io faccia self.qualcosa uguale creo do una proprietà nuova all'oggetto self poi per pulizia per ordine è sempre meglio che le proprietà vengano assegnate nel costruttore così so come sono fatti tutti gli oggetti della mia famiglia ma non è un vincolo è normale per un oggetto python avere un insieme di proprietà che varia nel tempo appena viene chiamato il costruttore quell'oggetto esiste già ma non ha nessuna proprietà e poi però man mano che vado avanti tipicamente dentro il codice del costruttore ma non necessariamente delle proprietà vengono aggiunte e anche si possono cancellare queste proprietà ma è un caso molto raro in cui non vale la pena di spendere tempo a questo punto ho finito il codice del costruttore e sono pronto per salvare dentro l'oggetto voto 1 il riferimento all'oggetto che ho appena creato quindi python come java ha il modello variabile è un riferimento a un oggetto le variabili stanno dentro il programma gli oggetti stanno fuori dal programma stanno nell'ip della memoria ciascuno ha un suo indirizzo di memoria l'oggetto sa che cosa è sa chi è sa di che tipo è ha la sua vita indipendente dalla variabile che uso per farvi il riferimento questo oggetto un attimo prima di ritornare dal costruttore si chiamava self adesso la variabile self è scomparsa perché ovviamente il codice è uscito dal costruttore e ho salvato questo riferimento dentro la variabile voto 1 adesso voto 1 vedete che è una variabile di tipo voto qui tra parenti di graffe PyCharm ci fa vedere il tipo dell'oggetto e se io vado a vedere come è fatto l'oggetto voto 1 vedo che ha queste proprietà qui che sono quelle che ci ho messo dentro proprietà ma anche il valore proprietà il tipo e il valore poi lo ripeto così ci entra bene in testa il tipo int str int se guardate sta dalla parte del numero non sta dalla parte della variabile tanto per ricordarci che CFU è il nome di una proprietà che punta in questo momento un oggetto il cui tipo è int e il cui valore è 10 10 non è un numero non è un oggetto di tipo int dicevamo tutti in Python tutto è un oggetto non esistono valori nativi e così via questo per capitale il debugger ci fa vedere dentro l'oggetto come è fatto cosa c'è dentro però se volessimo stamparlo in modo diciamo così educato non possiamo fare la print direttamente di quello perché questo è ciò che vedresti con il nome dell'oggetto e stampa questo se io voglio devo magari definirmi una funzione che mi stampi l'oggetto in modo che ne so stampa il voto in modo leggibile allora definisco un metodo stampa che parametri ha il metodo stampa self c'è sempre non servono altri parametri perché in realtà stampa l'oggetto stesso non è che ha bisogno e quindi potrei dire stampa l'esame esame self punto esame superato con mettiamo solamente il voto self punto punteggio allora qui vi ricordo la sintassi che si usa una delle sintassi possibili che si usa in python per costruire delle stringhe che contengono dei valori è quella delle f string stringhe formattate in cui ho una stringa che è davanti alla lettera f per dire guarda che qui ti do delle istruzioni di formattazione all'interno di questa stringa e tra parentesi graffe dentro questa stringa ho dei nomi di variabili o di espressioni il cui valore viene preso e infilato in quel punto lì in java avremmo fatto aperte virgolette esame chiuso le virgolette più dis punto esame più riaperte virgolette spazio superato con spazio chiuso le virgolette più dis punto punteggio anche qua vogliamo se ci vogliamo male possiamo usare la stessa sintassi di concatenazione di stringhe ma l'interpolazione con le stringhe formattate è molto più comoda no? allora a questo punto anziché chiamare questo print potrei dire voto 1 punto stampa chiamo quel metodo il quale ha accesso ai valori di quel voto e quindi potrà stampare l'esame di energie matematico 1 superato con 28 stampa quello e va a capo dopodiché non è molto utile avere un metodo stampa dentro un oggetto perché se io quella cosa lì voglio scrivere su un file anziché stampare video se la voglio salvare su un database anziché stampare video se la voglio mettere in un'interfaccia grafica allora è meglio separare le competenze e dire che l'oggetto sa come visualizzarsi come costruire la stringa poi che cosa me ne faccio di questa stringa che la voglio stampare salvare in un file o altro lo decide il programma chiamante lo decide il programma principale quindi in questo caso l'oggetto è più utile anziché stampare che lui mi restituisca questa stringa cioè questa stringa qua la costruisce ma poi non me la stampi restituiscimela la stampo io se la voglio stampare ma se non la voglio stampare la voglio salvare in una lista la salvo in una lista se voglio farci altre cose faccio altre cose tu oggetto dimmi come vuoi essere visualizzato poi che cosa me ne faccio io di questa visualizzazione non è più un problema tuo questo è poi uno dei degli esercizi dilemmi di progetto alla fine quando uno programma oggetti fin dove arriva la responsabilità dell'oggetto e dove invece è la responsabilità di chi lo usa quell'oggetto lì una delle tante domande che non hanno una risposta netta ma si cerca di valutare i pro e i contro ovviamente questo metodo qua non si può più chiamare stampa ma lo potremmo chiamare stringa dammi la stringa che corrisponde al voto allora in questo caso dovrei fare voto 1 punto stringa perché il metodo stampa non esiste più e questa stringa la stampo cosa ho fatto? semplicemente ho portato la print fuori ma ho ottenuto un metodo che ho chiamato stringa un po' più versatile questo però non mi risolve quell'altro problema ovviamente allora questo è un problema che avevamo anche già in java e in java si risolveva definendo un metodo speciale che si chiamava to string public string to string anche qua si può fare definendo un metodo speciale che si chiama str così underscore underscore str str underscore underscore tutti i nomi di metodi speciali come init sono sempre fatti così underscore underscore nome underscore underscore in gergo si chiamano metodi dunder 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 sta per double underscore quindi parlandone a voce uno direbbe questo è il metodo dunder str o dunder init per non dire underscore underscore init si dice dunder init è solamente una convenzione già così parlata che si usa quando sentite parlare di dunder methods sono tutti i metodi che hanno il nome così ma lo vedremo per i metodi vedremo per i valori alcuni valori particolari di attributi python si basa molto su questo meccanismi che in altri linguaggi come java sono nascosti dentro il linguaggio qua sono espliciti perché definisce dei nomi di metodi particolari che lui usa internamente allora se questo metodo qua anzi che chiamarlo stringa lo chiamassimo str scusate sì dunder str e ovviamente cambio anche sotto non solo funziona se lo chiamo come un metodo normale ma funziona anche nella prima precedente quindi anche qua un oggetto normalmente non solo ha delle proprietà e dei metodi che mi servono per lavorare ma anche delle proprietà e dei metodi che gli servono per collaborare bene con gli altri oggetti con il resto degli altri oggetti o delle funzioni di libreria questo ce l'avevamo anche in Java quindi sono dei metodi accessori che permettono appunto di fare la print diretta dell'oggetto quindi sottinteso conversione in stringa tutte le volte che a questo punto Python deve convertire un voto in una stringa chiama il metodo str dunder str anziché to string si chiama così e poi vedremo gli altri metodi di questa famiglia che sono quelli che permettono di completare il comportamento di un oggetto nei confronti del resto del linguaggio proviamo a rivedere questa cosa di nuovo in debug mi fermo metto il backpoint qua a questo punto direttamente questo qui scusate perché c'è semplicemente allora se eseguo quest'istruzione oramai l'abbiamo già vista prima quindi non ci entro dentro vedete che anche il debugger stesso a questo punto avendo il metodo str da chiamare mi fa anche lui vedere questo valore dentro l'oggetto voto esattamente come prima ma in più semplicemente ha questa capacità di convertirsi in stringa eccolo qua che ha stampato a questo punto questo valore ok che altre operazioni possiamo fare su questo oggetto per il momento non me ne vengono in mente data avevo detto che ci sarà ritornato beh chiaramente ci sono ancora delle cose a decidere esame e il nome dell'esame CFU è il numero di crediti punteggio è il punteggio come rappresentiamo la lode questa è una stupidaggine però è un problema che dobbiamo risolvere in qualche modo allora possiamo decidere che al posto di punteggio cioè nel caso di 30 lode mettiamo che ne sono 31 dopodiché potremmo mettere 31 come 99 cioè decidiamo che il 30 lode lo usiamo come valore numerico speciale è una possibilità una possibilità che però ha il problema che mi sballa tutte le operazioni rimetiche che voglio fare poi dopo perché se io mettessi 31 ma non usiamo 31 perché ci inganna mettiamo 99 tanto non cambia nulla la sostanza perché la lode non è 31 né 32 né 33 è un di più qualitativo allora immaginate di avere i voti con la lode a 99 e dover fare la media dei voti allora la procedura che fa la media a un certo punto dovrà avere un bel if if punteggio uguale uguale 99 allora consideralo come se fosse 30 insomma 30 quindi dovrei avere un'eccezione tutte le volte che uso punteggio devo fare un'eccezione quando devo fare la print devo dire ok se il voto è 99 print 30 è lode altrimenti print il voto stesso cioè collassare in un unico valore due significati diversi due informazioni con semantica distinta cioè un punteggio e una informazione in più ci crea poi problemi può sembrare comodo all'inizio ma ci crea problemi alla lunga allora probabilmente quello che è meglio è tenere due campi separati il punteggio e la lode ovviamente chi crea il programma dovrà fare attenzione che la lode possa essere definita solamente se il punteggio è 30 perché 22 e lode non si può sentire non so perché ma è così quindi vuol dire che noi nel nostro oggetto non ci avevamo pensato ma dobbiamo giugno un altro parametro che possiamo chiamare lode quindi in questo caso la lode sarà false con la F maiuscolo scusate e a questo punto però posso anche fare attenzione fare in modo che il costruttore se ne accorga di questo ok quindi ciò che ho fatto ho aggiunto un parametro costruttore ho aggiunto una proprietà e ho aggiunto ovviamente il valore di questa proprietà nella chiamata la costruzione della funzione e quello che abbiamo detto a parole è che la lode ha senso metterla solo se hai preso 30 quindi qua il costruttore potrebbe dire guarda andiamo un attimo a controllare se per caso la lode è vera e il voto non lode dis.lode e il voto invece e dai da col dis self and self punto punteggio non è 30 non va bene dimmi no adesso ci arrivo la sua domanda è se si possono fare due costruttori diversi no perché non c'è l'overloading delle signature ma ci arriviamo devo giocare in modo diverso con i valori di default allora c'è il punto lode allora cosa succede in questo caso qua uno mi ha chiesto di fare di registrare un voto come 22 e lode e beh questo qua deve dire che non si può fare quindi la cosa più logica da fare in questo caso secondo me è generare un'eccezione no e quindi usiamo il throw no raise scusate scusatemi ma io mi confondo java java scrivete python perché lo insegno in corsi paralleli raise è l'equivalente python di throw per generare un'eccezione ok e che eccezione possiamo generare ad esempio illegal in aspetta sto guardando qui quando fai ovviamente un raise lui ti fa vedere l'elenco delle eccezioni value error potrebbe essere quindi un'eccezione di tipo value error il valore non è valido possiamo costruirci noi nostre eccezioni oppure usare quelle predefinite altrimenti va bene così costruisce l'oggetto quindi proviamo a fare un run di verifica ok va tutto bene se io invece mettessi l'errode a true mi blocca il programma e mi dice che è stata generata questa eccezione value error poi volendo posso dare un messaggio di spiegazione l'errode non applicabile ad esempio e quindi mi stamperebbe questo messaggio insieme all'eccezione quindi anche qua il costruttore come tutti i metodi possono fare anzi devono fare i controlli di validità sul dato mettiamo la false il luogo in cui fare questi controlli è nel costruttore se poi vogliamo ci ricordiamo che python non fa nessun controllo sui tipi dei valori passati al limite possiamo farlo qua questo controllo verificare che punteggio sia un intero ad esempio quindi questo è il primo discorso sulla lode secondo discorso sulla data come si rappresentano le date allora di solito le date sono un argomento rognoso in qualunque linguaggio di programmazione ma fonte di grane a non finire dedicheremo poi una lezione sulla libreria date time predefinita nella libreria standard di python ecco la grossa differenza il grosso vantaggio rispetto a java che in java la classe date la libreria java punto utili punto date fa schifo ma proprio tecnicamente non ha i metodi che servono rappresenta male i dati non rappresenta il fuso orario ha un milione di difetti e quindi bisogna ricorrere a delle librerie in questo caso nel caso di java si usa la libreria java punto time che è stata introdotta molto più avanti e purtroppo molte librerie precedenti non la usano mentre con python tutto sommato la libreria predefinita che si chiama date time ha degli oggetti che si comportano abbastanza bene però richiedono un attimo di attenzione soprattutto per il discorso dei fusi orari perché il gran casino nasce fuori dai fusi orari non c'è un'ora unica a livello universale ognuno ha la sua e quindi dentro gli oggetti che le rappresentano devi tenere conto di quello ma di quello ne parleremo più avanti per ora ho fatto la cosa semplice la data la rappresento sotto forma di stringa ho scelto di rappresentare sotto forma di stringa nell'unico modo in cui ha senso rappresentare una data che è anno mese giorno tutte le altre rappresentazioni della data sono bacate dal punto di vista informatico noi che abbiamo una rappresentazione giorno mese anno fa schifo perché l'anno mese giorno ha il grosso vantaggio che se tu le metti in ordine alfabetico ti saltano fuori anche in ordine di data se tu fai giorno mese anno avresti tutte le cose col giorno uno di tutti i mesi di tutti gli anni poi quel giorno due di tutti i mesi di tutti gli anni a macello ok quindi cerchiamo di usare anche quando usiamo delle rappresentazioni non adatte cioè non un oggetto data ma una stringa che mi serve per cerchiamo comunque almeno di rappresentare la convenzione che le cifre più significative sono a sinistra e quelle meno significative sono a destra le unità sono a destra i giorni le decine i mesi sono a metà e gli anni sono a sinistra così almeno riusciamo a anche vederle dovessimo ordinare confrontare due date confrontando queste stringhe come se fossero confronti alfabetici viene fuori la cosa giusta purché febbraio si è scritto 0,2 e non 2 comunque sappiamo che non è il modo giusto per andare avanti ci accontentiamo per ora di rappresentarlo come stringa ma in un formato che sia minimamente gestibile questo tra l'altro formato qua di anno trattino mese trattino giorno è uno standard ISO sulla rappresentazione delle date questo standard è molto ampio ti dà molte rappresentazioni possibili ma il nucleo è questo anno mese giorno possibilmente separati da trattino se anche il trattino non ci fosse valerebbe bene lo stesso basta mettersi d'accordo ma è più leggibile col trattino ok se poi voglio rappresentare più di più di un voto io potrei avere il voto 2 che è anche un altro esame l'esame di base di dati uno secondo anno questo qua aveva 8 crediti il punteggio allora l'uno suggerisce 30 dai facciamo 30 lode true e questo invece l'abbiamo dato l'anno scorso 2023 a giugno 06 15 quindi io potrei provare voto 1 voto 2 questo qua con l'STR non mi serve più perché tanto ho imparato a farglielo fare e lui mi stampa esame di un superato con 28 esame di base di dati superato con 30 ok quindi ho più oggetti e ciascuno contiene veramente l'informazione di un voto questi oggetti li posso mettere in una lista no? miei voti uguale voto 1 virgola voto 2 se stampo miei voti che cosa fa? vabbè in python posso stampare una lista? sì ce la stamperà con aperta quadra e i valori dei singoli elementi chiusa quadra e i valori dei singoli elementi userà l'STR dell'oggetto stesso per stampare quindi mi stamperà ops perché mi stampa questo e non il nome ok perché lui allora cosa abbiamo fatto? abbiamo preso due oggetti e li abbiamo messi in una lista aperta quadra elementi ricordate non la sintesi per creare le liste in java avremmo dovuto creare un array list e poi aggiungere gli elementi dentro qua semplicemente si usa la sintesi in line aperta quadra e ci metti le cose dentro e quella la puoi usare come lista puoi prendere il primo elemento l'ultimo eccetera quando ho fatto print lui mi ha stampato ha riconosciuto che è una lista vedi che c'è un'aperta quadra una chiusa quadra e una virgola in mezzo perché non mi ha chiamato il metodo STR per stampare il valore dell'oggetto? oppure quell'oggetto ce l'ha il metodo STR devi stamparlo perché non lo usi ma il motivo adesso vado a prenderlo in una slide è che in Python esistono due metodi che ogni oggetto può avere per convertire se stesso in una stringa il metodo STR che conosciamo e poi c'è un altro metodo che si chiama REPR REPR sta per representation cioè fammi vedere la tua rappresentazione interna STR viene usato quando voglio mostrare le cose all'esterno REPR è una rappresentazione che è più utile al programmatore per debug per vedere effettivamente come è fatto l'oggetto che ci sta perché a volte tu hai il toString che ti rappresenta le cose bene in modo estetico ma poi alla fine magari come abbiamo fatto noi nel nostro metodo STR non ci sono tutti i dati dell'oggetto non c'è la load ad esempio perché lì ci sono dimenticata e allora in python hanno deciso di definire due metodi diversi il metodo REPR funziona come come STR nel senso che restituisce una stringa ma questa stringa è pensata per il programmatore e normalmente la stringa che costruisco è la chiamata che farei del costruttore per costruire quell'oggetto lì cioè se ti devo descrivere come è fatto quell'oggetto dentro qual è il modo migliore che non dire guarda se tu chiami il costruttore chiami la classe con questi parametri ti viene fuori proprio questo oggetto lì poi potrei scriverlo in tanti modi diversi ma per convenzione è un modo compatto facile da leggere allora vedete che l'esempio che c'era è che di questa car che c'è nell'esempio di due slide l'STR dà una versione leggibile all'utente e il print essendo una cosa che va sullo schermo prende l'STR e ti fa vedere quello quindi chiama il metodo STR mentre invece se voglio vedere l'oggetto vedete qua non c'è nessun print davanti è l'oggetto nudo chiama il metodo REPR e il metodo REPR ti stampa le stesse informazioni sotto forma di chiamata al costruttore chiama il costruttore della classe CAR col parametro Toyota col parametro Camry col parametro 22 col parametro RED i quattro parametri poi in realtà chi ha costruito questo metodo REPR il sito qui non è una magia è stato implementato in questo modo ha scelto di fare il passaggio di parametri non per posizione qui abbiamo fatto un passaggio di parametri per posizione primo secondo terzo quarto ma si può fare anche un passaggio di parametri per nome in Python quindi dare esplicitamente il nome del primo parametro uguale al valore del primo parametro il nome del secondo parametro uguale al valore del secondo parametro e così via un po' più leggibile possiamo scegliere noi quando chiamiamo un metodo non c'è nulla di particolare da fare quando io chiamo un metodo posso semplicemente elencare i parametri oppure elencare ciascuno col suo nome elencarli col nome mi aiuta se li volessi anche elencare in modo in ordine diverso oppure se avessi dei parametri opzionali col valore di default e questo è il meccanismo in parte per rispondere alla sua domanda per dire se io voglio chiamare non posso avere più di un costruttore non posso avere più di un metodo con lo stesso nome ma posso avere dei parametri opzionali che posso chiamare solamente per nome e con questo di fatto lo stesso metodo lo chiamo in modi diversi passando o non passando certi valori per nome però perché altrimenti solo in base all'ordine non si capirebbe poi questa frase qua la dovremo ovviamente diciamo completare con degli esempi allora in questo caso la stampa di una stringa in quanto tale è una tipica operazione che non va all'utente finale va al programmatore vuole vedere cosa c'è in quella lista se non una stringa è sull'altra di una lista la conversione di una lista in una stringa usa il metodo representation e non il metodo str quindi per far sì che qua sotto stampi qualche cosa io stamperei devo definire anche il metodo rep che restituisce una stringa un po' diversa ad esempio restituisce usiamo sempre con un f stringa voto e poi sappiamo che il primo parametro è il nome dell'esame esame chiuse virgolette il secondo parametro è il secondo parametro era sì cfu punteggio chiuse virgolette aperte virgolette no il punteggio non ha le virgolette perché è un numero scusate cfu anche poi la lode anche è un booleano quindi lode e poi la data quindi apice valore self.data chiuso apice e chiuso tonda allora ciò che ho fatto è eccolo qua fare in modo che l'oggetto quando deve stamparsi usando la funzione repre usando il metodo della presentazione interna mi stampi l'equivalente della chiamata per costruire un nuovo oggetto identico a se stesso non è obbligatorio però è una scelta abbastanza comoda abbastanza comoda una convenzione abbastanza comoda quindi mentre la riga sopra che vediamo è la stampa di quei due oggetti che si sono convertiti col metodo str quella sotto è la stampa degli stessi oggetti che si sono convertiti col metodo repre normalmente il metodo repre lo usiamo per finalità interne di sviluppo quel valore lì non verrà mai usato nel programma finale però è un modo condensato di dire ti dico qual è la classe voto e ti dico quali sono i parametri di costruzione poi è chiaro che non è vera sintassi python l'ho costruita io in modo che fosse simile a python ci ho messo delle parentesi tonde aperte e chiuse ci ho messo degli apici aperti e chiusi ma ce li ho messi io non è automatico non è ok quindi ogni oggetto alla fine per poter essere usato per poter essere debuggato diciamo che usa entrambe queste queste tattiche se vogliamo di nuovo vedere posso arrivare di nuovo qua in debug a questo punto possiamo chiederci ma il debugger cosa mi fa vedere il debugger lui preferisce visto che siamo in debugger preferisce il metodo repr vedete che qua adesso l'oggetto me lo stampa così qua sotto nel debugger allora python è abbastanza furbo che se io definisco questi due metodi usa ciascuno dei due nel contesto più adatto se ne definisco uno solo dei due lui in mancanza d'altro usa l'altro no? qui non c'è la repr e allora per stamparmi qualcosa il debugger ha deciso di usare l'str viceversa se io definisco un repr e non definisco l'str tutte le volte che deve convertire in stringa usa il repr in automatico come seconda scelta come piano b quindi visto che sono entrambi metodi opzionali se ci sono li uso e li uso nel contesto giusto se ce n'è uno solo dei due cerco di compensare con l'altro per completezza li dovrei definire entrambi perché abbiamo capito che servono in momenti diversi ok qui abbiamo quindi creato una lista di oggetti quindi nel frattempo però ci siamo dovuti completare gli oggetti per poter essere buoni ospiti di una lista e poi beh il testo in realtà mi diceva una cosa diversa non mi diceva prendi i voti e sbattili in una lista mi diceva prendi i voti e mettili e crea una classe libretto che contenga la lista dei voti perché non è che adesso mi metto a fare a mano la media dei voti di quella lista lì crea una classe libretto che magari ha un metodo dammi la media allora facciamolo prima del codice che sta sotto creiamo una classe libretto indipendente non è che ereditano c'è niente è una classe a parte che parte come libretto vuoto quando io creo un libretto mi scrivo al poli bello bello sono iscritto quanti esami hai dato zero ovviamente e dopo qualche anno quello zero potrebbe diventare un problema allora io che cosa posso fare posso nel mio costruttore che non ho bisogno di nessun parametro ma eventualmente i parametri del costruttore sono miei c'è la mia matricola il mio nome se mi servisse ma dal punto di vista di voti non ho nessuno e quindi posso definire una proprietà voti con zero voti dentro e quindi a questo punto io creo come utente andiamo sotto fatemi commentare un attimo queste print per non avere schifezza posso dire che il mio libretto è un quale una nuova oggetto di tipo libretto quindi ho creato delle classi voto 1 voto 2 che sono istanze della classe voto cioè le variabili voto 1 voto 2 che sono istanze della classe voto ho creato una variabile del mio libretto che è un'istanza della classe libretto e poi come faccio a metterci i voti dentro il libretto questa classe il mio libretto avrà bisogno di un metodo per raggiungere un voto giusto? allora dovrò definire nella classe libretto un metodo per raggiungere un voto come lo chiamiamo questo metodo per raggiungere un voto? o aggiungi voto oppure raggiungendo in python a me viene a chiamarlo append che è il metodo che userei per raggiungere un elemento a una lista così almeno se chiamo un metodo append tutti sanno che cosa fa def append self voto in questo caso suggerimento è giusto quindi ho un metodo che cosa fa che si chiama append che riceve un voto voto è al nome di un argomento che presumo assumo spero che sia un'istanza di un oggetto di tipo voto non è che se è il punto voti che è una lista append aggiungo a questa lista il nuovo oggetto di tipo voto questo meccanismo definisco un metodo sul mio oggetto che non fa altro che richiamare un metodo su un oggetto al mio interno un oggetto che fa parte della mia proprietà questo lo diciamo in una parola dicendo che sto delegando l'append cioè l'implementazione di append delega semplicemente all'oggetto voti di fare la stessa operazione delegation nella programmazione di oggetti è avere un oggetto che offre dei metodi ma questi metodi non sono altro che la riproposizione il remapping la rendere visibile l'operazione che si può fare sulla struttura dati sull'interno quindi a livello di implementazione è come se rendessi visibile non la lista dei voti ma le operazioni che possono fare su quella lista quindi in questo caso potrei fare mio libretto punto append voto 1 mio libretto punto append voto 2 e andrei a popolare spero se non ho errore adesso lo verifichiamo subito proviamo a mettere un primo libretto che sappiamo già che non funzionerà metto un breakpoint qua per vedere cosa succede entro in debug e mi dice voto 1 voto 2 sono oggetti di prima adesso vedete che li abbiamo stampati con la rep quindi ti fa vedere tutti i campi crea l'oggetto libretto a questo punto crea la variabile mio libretto che è uguale alla nuova istanza di un oggetto di tipo libretto di cui non ho ancora deciso come verrà visualizzato quindi mi schiaffa esattamente l'indirizzo di memoria e ha però una proprietà voti che è una lista di zero elementi e poi a fianco c'è la rep di quella lista voto 1 so che cosa è è riferimento a questo oggetto quindi adesso ci entro dentro la funzione quando chiamo questo append che cosa succede che viene chiamato il metodo append append della classe libretto come voto o il riferimento a quell'oggetto in python tutte le chiamate funzioni si passano in giro solamente delle reference degli oggetti quindi l'oggetto l'abbiamo creato una volta sola e poi ci stiamo passando in giro il riferimento l'indirizzo di memoria di questo oggetto qua niente di più tanto l'oggetto stesso sa chi è sa quali sono i suoi valori sa qual è il suo tipo non c'è bisogno d'altro e se il punto vuoti è la lista che adesso contiene nessun elemento questa operazione di append pensa un po' cosa farà aggiungerà adesso sono uscito dalla funzione ovviamente perché non c'era più niente dopo ma se vado a vedere il mio libretto adesso vuoti è una lista non è un'altra lista è la lista di prima la stessa lista di prima o al cui ho aggiunto un elemento e idem dopo aver se faccio anche il secondo append vedrò che il mio libretto conterrà appunto due elementi però se faccio print non mi stampa niente se faccio print mi stampa ovviamente questa cosa qua perché il libretto non ho ancora deciso come deve essere visualizzato non c'è un metodo str quindi quando faccio print il mio libretto stupido io a farlo ecco non devo farlo però abbiamo parlato del libretto perché abbiamo detto vogliamo fare la media allora possiamo aggiungere alla classe libretto un metodo media dei voti il metodo il metodo media calcola la media e non non richiede nessun parametro poi ovviamente questo suggerimento è sbagliato devo riuscire a attivare questa roba qua perché perché ti dice si fai la media allora la somma divisa la lunghezza è bravo ma questi non sono mica numeri per il punto voti sono oggetti è una lista di oggetti non è che posso fare la somma degli oggetti quindi ci vuole un attimo di pazienza in più innanzitutto devo capire per definire la media se se ho dei voti di cui fare la media deve avere almeno uno se no che media è quindi se self.voti punto scusate len di self.voti è uguale a zero non va bene elenco vuoti vuoto vuoti vuoto altrimenti vado avanti quindi controllo prima se l'operazione non è fattibile genero un errore altrimenti faccio l'operazione quindi devo estrarre i punteggi 100 modi di farlo sta roba qua posso fare un foro o cosa del genere ma io posso usare magari una comprehension quindi ci ripassiamo anche un po' la sintassi di punto punteggio for p no lasciate v diciamo la v in self.voti allora cos'è cosa è questa sintassi è una list comprehension in python cioè costruisco al volo una lista trasformando gli elementi in una lista esistente allora io itero sugli elementi di una lista esistente for v in self.voti serve punto voti è la lista che ho è una lista di oggetti di tipo voto itero su questi, li chiamo v v è semplicemente la variabile dell'iterazione e costruisco una nuova lista che sia fatta da questa espressione v punto punteggio cioè estraggo il punteggio dall'oggetto v quindi v, la prima iterazione sarà il primo oggetto il primo voto v punto punteggio è il punteggio del primo voto del primo esame poi passo al secondo, v vale il secondo esame v punto punteggio sarà il punteggio del secondo esame il tutto viene messo dentro una lista quindi questo sostituisce il ciclo for in cui creo una lista vuota e faccio append dei punteggi delle singole cose è semplicemente una sintassi diciamo così, compatta per fare questa operazione qua a questo punto questa è una lista di numeri se i punteggi sono stati messi dentro come numeri e allora posso effettivamente fare la media sapendo che questa lista è di numeri e non è vuota posso fare la somma dei punteggi diviso la lunghezza dei punteggi e la mia media per dirne una questa riga qua la spieghiamo in debug la spieghiamo in debug ok arrivo qua e metto un breakpoint qui così vediamo cosa succede quindi ho messo un breakpoint ma perché non me lo prendi ciccio vabbè allora beh io sono arrivato qua faccio l'append del secondo voto e vediamo cosa succede quando chiamo la funzione media il metodo media sul mio libretto entro dentro allora io sono dentro la classe libretto ok se il punto voti è l'elenco dei voti verifico che di averne almeno uno di voto che la lunghezza non sia zero in questo caso va bene dopodiché mi serve estrarre da questa lista di oggetti perché questa lista qua contiene due oggetti questi due numeri il 28 e il 30 perché sono quelli su cui devo fare la media allora per poterlo fare è costruisco una nuova lista che contenga solo quei numeri per costruire questa nuova lista itero sulla lista esistente quindi for v in voti quindi itero sui vari oggetti che sono dentro questa lista il primo oggetto il secondo oggetto eccetera di ciascun oggetto vado ad estrarre il punteggio v punto punteggio quindi costruisco una lista che contenga primo voto punto punteggio secondo voto punto punteggio è come se facessi self punto voti di zero punto punteggio self punto voti di uno punto punteggio tutti messi in una lista lo posso fare se voglio con un ciclo for normale oppure con queste sintassi che mette insieme diciamo così il ciclo for e l'appende del valore da mettere in questa lista che sto costruendo quindi poi la somma non me la faccio io potrei anche fare un ciclo in cui mi faccio la somma ma perché devo scrivere più codice quando me la faccia lui e quindi adesso eseguo questa istruzione mi da punteggi lo guardo qua la punteggi punteggi non è una proprietà dell'oggetto non c'è self punto punteggi è solo punteggi e quindi è una variabile locale del metodo quindi finito il metodo lui muore come tutte le variabili locali di una funzione punteggi contiene un elenco di numeri 28 e 30 che ho estratto dalla lista là sopra in java mi sembra che abbiate fatto i metodi di streaming c'è una collection e poi creo uno stream e su questo stream applico una funzione che per trasformarlo mi sembra che alcuni anni venivano fatti che è un modo molto complicato di pensare esattamente a quello che fa qua costruisco un nuovo una nuova collection in questo caso una nuova lista usando gli elementi di una lista applicando a ciascuno di essi una trasformazione la trasformazione vi punto punteggi dopo di che ho un minuto per dirvi che se questo fosse java sarebbe un disastro perché io sto leggendo nella classe libretto l'attributo punteggi della classe voto e ci hanno insegnato che le proprietà di una classe sono private e nessun oggetto può leggere le mie proprietà se io non ho un metodo get punteggio quindi in java avrei dovuto scrivere nella classe voto get punteggio return serve punto punteggio e qua non v punto punteggio ma v punto get punteggio perché non l'ho fatto? perché in python tutti gli attributi della classe sono pubblici punto quindi poi lo riprendiamo mercoledì o più avanti getter e setter si possono definire quando ci servono ma quando non ci serve qualcosa di complicato python ci dice senti quella classe lì ha quegli attributi ti serve leggilo perché avere un metodo che nel 99% dei casi quando crei un getter lui ti restituisce il valore tale e quale scusa allora facciamo in modo che nel 99% delle volte quando ti serve il valore te lo vai e te lo leggi quando invece quel getter deve fare le cose particolari allora puoi definire l'equivalente del getter ma solo quando ti serve fare qualcosa di particolare quindi il concetto di visibilità degli attributi praticamente non c'è in python sono tutti pubblici anche se poi ci sono delle convenzioni basate sugli underscore per dire guarda io preferirei che questa variabile non me la toccassi ma di questo non abbiamo più tempo per parlare oggi ci vediamo mercoledì grazie a tutti